Ciao, io sono Alberto Dalgo, ho 22 anni e studio pianoforte da quando ne ho sei. Due anni fa mi sono diplomato in pianoforte al conservatorio e mi piacerebbe molto partecipare all'iniziativa Piano City. Il programma che propongo dura circa un'ora e un quarto e consiste in un brano di Beethoven, suonata opera 53 Walstein, un brano di Bach, partita numero 2 in D minore e due brani di Franz Liszt, suonata Dante e studio trascendentale numero 4 Mazetta. Grazie a tutti.